Ciao Torino Foto! Volevamo ringraziarvi per la splendida giornata che avete passato insieme a noi e ringraziarvi per il lavoro svolto. Volevamo ringraziare tutti voi, avete fatto veramente uno splendido lavoro, siete stati puntualissimi, gentili e molto molto disponibili. Pazienti, soprattutto con gli invitati. Ci avete messo a nostro agio fin da subito. Ha accontentato tutte le nostre richieste. Avete veramente fatto ciò che avevamo chiesto, quindi un fotoreportage dove veramente a tratti, ci preoccupavamo noi di dove fossero i fotografi perché avevamo paura che non li stessero trattando bene, invece è veramente un ottimo lavoro. Grazie mille. Veramente, grazie. Più che consigliarvi a tutti quanti, non sappiamo cos'altro fare. Grazie mille. Ciao!